Cell Food, ossigeno per la vita. Integratore antiossidante a base di ossigeno, vitamine e minerali in soluzione colloidale. Cell Food Gorce, formula del dottor Everett Story. Da oltre 50 anni in tutto il mondo disintossica il corpo, libera da tossine e riequilibra le funzioni corporee. Lo trovi in farmacia, parafarmacia, erboristerie specializzate, infochiocciolarnica.it e sul sito www.cellfood.it. Cell Food, un pass per il tuo benessere. Cell Food, un pass per il tuo benessere.